Musica Allora, prima di iniziare questo video chiedami una cosa Perché ieri ho fatto uscire 5 video? Perché ieri dovevo fare uscire il primo episodio di una nuova serie Ma siccome l'episodio era troppo lungo L'applicazione con cui edito i video non me lo faceva esportare E quindi ho caricato questi 5 video per accontentare voi Salve straniere e straniere, benvenuto nel mio canale Oggi parleremo di un nuovo argomento, ovvero di una nuova serie Che uscirò fra un po', non dico fra molto, ma fra un po' E l'ho scoperto il perché Allora, un po' di settimane fa mi è venuta un'idea Ma perché non facciamo una nuova serie da ben 100 episodi? E ho detto, il mio cervello era convinto, però il mio cuore no E quindi cosa ho detto? Ci rifletto, ci rifletto E poi alla fine ho detto, va bene, facciamo questa cacchiata E quindi oggi sono qui a parlarvi di questa cosa Allora, innanzitutto prometto che gli episodi saranno ogni giorno Però se qualche giorno ci saranno un episodio, non fucilatemi Perché in estate io, uno, mi voglio divertire Due, mi voglio rilassare Perché in estate non c'è scuola In estate c'è il mare E vabbè, avete capito Poi due Come prima cosa che porterò per questa nuova serie Porterò, questo è uno spoiler Dei filmati di questo gioco Ovvero di Nazium e Le Vengo Luce che ho portato finora Per prima cosa porterò i filmati Perché per questione di tempo Già non porterò l'altra cosa che vi dirò ora Ovvero i set per i giocatori Questo è un altro spoiler Che poi, questi set li vedrete fra poco Però non vi dico proprio la data precisa Poi terza cosa Io faccio i set però Non è che significa che dovete per forza copiarli Precisi, precisi Potete modificare qualcosa Però per renderlo Per rendere il giocatore più forte Non per indemborirlo O per mettere mosse a casaccio Come alcuni di voi sanno fare Ecco Poi che cosa posso dire in più Che i set li ho detti Gli spiriti guerrieri Chiedo per i set All'inizio metterò quello Forse se dropperò altri spiriti guerrieri Più forti Li cambierò Quindi non è sicuro che i set sono proprio definitivi Io metto i set Completati Però non significa che sono definitivi Perché devo vedere se Poi li modificherò Cioè metterò spiriti guerrieri più forti se li trovo Oppure se li lascio quelli Perché se li lascio quelli Non li modifico E quindi non usciranno due set Non uscirà solo uno E quindi questo Quindi se vi aspettate due set Dello stesso personaggio È perché in uno ci è messo Il set completato Però non definitivo E nell'arto definitivo Fatto tutto bello Con lo spirito guerrieri L'equipaggiamento Le mosse Allenate E extra Tutto quanto E quindi solo questo La serie durerà Un 200 episodi E dopo basta Dopo non so cosa far uscire Dopo credo che uscirà una serie Sulla playstation Che non durerà molto E sarà di più Sui giochi che ho scaricato Va bene Spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso lasciate like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima Domani con un nuovo video O una nuova serie Supernova Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.